La scuola Sant'Anna da 20 anni sostiene la creazione di imprese spin-off. Dal 2000 il fenomeno diventa ancora più significativo. Ogni anno in media sono nate due nuove imprese in mezzo e questo è un dato estremamente rilevante per una realtà universitaria di piccole dimensioni come la scuola superiore Sant'Anna. Fino ad adesso le aziende spin-off sono state più di 40 e quasi tutte, 36 per l'esattezza, sono ancora attive. La scuola superiore Sant'Anna è un esempio particolare nel panorama universitario italiano. È una scuola che cerca di coniugare formazioni di eccellenza con la capacità di fare ricerca ai massimi livelli e il prodotto di questa attività si traduce non solamente in produzione di pubblicazioni scientifiche ma anche nella formazione di giovani di grande talento. È inevitabile che questa attività porti non solo quindi a un aumento delle conoscenze ma ha anche la capacità di trasferire queste conoscenze nel panorama produttivo e quindi in un contesto di aziende alta tecnologia che nascono nei nostri laboratori. Si tratta quindi di una terza missione della scuola, non solo formazione e ricerca ma anche trasferimento tecnologico, trasferimento tecnologico che ha nelle aziende spin-off create nella scuola il suo fiore all'occhiello. L'esempio di come si possa coniugare ricerca scientifica, formazione di eccellenza con restituzione al territorio e capacità di fornire risposte al problema occupazionale dei giovani nel nostro paese. Le aziende spin-off della scuola rappresentano infatti una possibilità di occupazione ad alta tecnologia per ragazzi che hanno avuto un percorso di studio estremamente qualificato sono stati esposti precocemente a un'attività di ricerca e hanno saputo tradurre tutto questo nella capacità di diventare non solo ricercatori ma anche imprenditori. Sappiamo come il nostro paese abbia fortemente bisogno di creare nuove aziende, aziende di alta tecnologia crediamo che il modello Sant'Anna possa rappresentare un esempio per il nostro paese. Scienzia macchinale è la prima spin-off del Sant'Anna. La robotica nasce nel 1990 dall'idea e dalla passione dei ricercatori di quello che fu il primo laboratorio della scuola, l'Arts Lab. La robotica è stato il punto di partenza delle attività di ricerca e progettazione dell'azienda. Adesso scienzia macchinale ha 50 addetti e si presenta sul mercato con due marchi. Si, si presenta con due marchi. Uno è Novamentis, quello con il quale noi facciamo ricerca sotto forma di contract design, cioè lavoriamo per l'esterno, arrivano delle idee e noi le realizziamo. Il secondo marchio è il brand sensometrico con il quale noi realizziamo tutta una serie di apparecchiature per il controllo delle leghe metalliche. È indubbio che andare all'estero è fondamentale perché i nostri prodotti non sono a livello nazionale, hanno un'importanza a livello globale. Quindi noi ci rivolgiamo all'esterno attraverso una rete di agenti, distributori e nella nostra rete commerciale e stiamo ricercando dei finanziatori per poter aumentare quella che è la nostra penetrazione sul mercato. Qua stiamo vedendo una macchina che è stata realizzata all'interno di un progetto del Made in Italy da parte di un gruppo di aziende con a capo scienza macchinale e con alcune delle aziende spin-off del Sant'Anna e insieme al Sant'Anna stesso. Pensiamo che questa sia una macchina estremamente interessante e che possa avere un grosso ritorno per il mercato della riabilitazione. Questo è il simulatore di un forklift di quelli che si usano per il carico e lo scarico di merci in porto e per giunta è stato adattato anche ai portatori di handicap. È stato progettato e realizzato da un gruppo di lavoro del laboratorio Percro dell'Istituto Tecip del Sant'Anna che con dei soci industriali ha costituito una società spin-off. La nostra società propone la progettazione e lo sviluppo di simulatori anche molto complessi cercando di sfruttare al massimo le competenze e le capacità interne al laboratorio Percro sia dal punto di vista grafico, fisico, meccanico e commerciale. Ci rivolgiamo principalmente a grandi centri logistici e portuali. I nostri primi contatti sono nati sia in Toscana che nel nord Italia ma non abbiamo intenzione di limitarci soltanto a questo settore ma anche per esempio al gaming o allo sport. Robotech nasce nel 2004 con la commessa di un robot didattico completamente nuovo in kit di montaggio. Lo vediamo, è stato un successo mondiale. Le attività poi si sono moltiplicate e differenziate e così proprio a Peccioli dove la società a sede è stato sperimentato sulle strade l'utilizzo del robot spazzino. E poi è nata Flatbot, una barca per il monitoraggio delle acque di laghi, fiumi, lagune. La Robotech è una società di ricerca e sviluppo nel campo della robotica didattica e di servizio che nel tempo ha diversificato le proprie attività anche nello sviluppo di prodotti elettronici per conto terzi potendo seguire i propri clienti dall'idea iniziale fino alla produzione in serie pronta per il lancio sul mercato. Siamo l'unica design house europea della Sensory che è leader mondiale nelle tecnologie di riconoscimento e sintesi vocale embedded e per questo abbiamo acquisito competenze specifiche nello sviluppo di prodotti con riconoscimento vocale in diversi settori, dal giocattolo all'elettrodomestico e ovviamente ai robot. Per quanto riguarda la robotica, abbiamo una forte competenza e esperienza nello sviluppo di robot di servizio che possono interagire con persone di qualsiasi età e vogliamo portare questo tipo di robot sul mercato e quindi stiamo studiando quali siano i servizi e i compiti che le persone comuni vogliono davvero delle gare ai robot. Per questo stiamo cercando società o enti pubblici interessati a sfruttare le tecnologie robotiche per soddisfare esigenze reali di persone reali. RECNO realizza sistemi di videosorveglianza in grado di rilevare automaticamente persone, mezzi e eventi in un determinato luogo e lanciare subito un segnale di allarme. Il mercato di riferimento è quello professionale, pensiamo a porti, aeroporti, aree industriali. L'azienda nasce nel 2010. RECNO si è sempre occupata di intelligenza artificiale per sistemi robotici e industriali. Il nostro prodotto di punta è un sistema di videosorveglianza intelligente in grado di rilevare soggetti quale persone o veicole in un'area di interesse. Quindi qualsiasi sistema di videosorveglianza già esistente o nuovo dotato di telecamere analogiche o digitali può essere trasformato in un sistema automatico di rilevazione di eventi sospetti rimuovendo così la necessità di predisporre un operatore umano che controlli continuamente il flusso video. Il sistema è dotato di un'interfaccia grafica che permette all'utente di ottimizzare i risultati dell'elaborazione in funzione delle proprie particolari esigenze. Fastenica Mette a frutto tutte le competenze nella robotica e nell'ICT maturate nei laboratori della Scuola Sant'Anna e così nascono sensori intelligenti come questo in grado di rilevare temperatura, pressione e forma del contatto o sistemi di controllo per robot e macchine automatiche. I soci di Fastenica hanno maturato all'interno della Scuola Sant'Anna in questo periodo diverse competenze fra cui in informatica, in elettronica, in meccanica e in controllo. Ciò permette a Fastenica di poter lavorare su diversi aspetti della ricerca fra i quali ad esempio lo sviluppo di pelli artificiali che possono essere utilizzati per rivestire mani robotiche oppure protesi artificiali in grado di fornire un senso del tatto, un senso della temperatura e anche un senso di un eventuale taglio che potrebbe rilevarsi sulla superficie della pelle artificiale. Questo permette a un robot di poter interagire in maniera efficiente e sicura con l'ambiente esterno particolarmente anche con l'interazione con esseri umani. L'altro dispositivo su cui Fastenica sta lavorando è un nuovo attuatore che comprende funzioni anche di regolazione automatica della rigidezza. Questo può trovare applicazioni per lo sviluppo di macchine per la riabilitazione e di macchine per il fitness in modo da salvaguardare al massimo la integrità fisica dell'utente durante l'interazione con la macchina in modo che questo si possa accordare con lo sviluppo muscolare del paziente. Enesis realizza sistemi per il monitoraggio ambientale per la sicurezza dei trasporti e per la sorveglianza. Questa spin-off che ha sede a Parma nasce nel 2007 su iniziativa di un ex allievo della Scuola Sant'Anna. La mission di Enesis è migliorare la sicurezza e la qualità di vita delle persone portando nelle loro vite sistemi e dispositivi intelligenti capaci di raccogliere, elaborare e restituire in modo efficiente l'informazione raccolta. L'informazione è in molti settori che per noi sono settori di business che sono l'ambiente, l'industria, la mobilità, l'health and wellness e la security. I nostri principali prodotti sono la piattaforma distribuita Bisper e il sistema Pantobot per il monitoraggio dei pantografi e dei treni. I nostri clienti sono soprattutto all'estero il principale dei quali è Toyota. Come sviluppi futuri abbiamo in previsione tre prodotti rivoluzionari che usciranno nei prossimi mesi uno nella sorveglianza l'altro nel monitoraggio strutturale e il terzo nell'health and wellness. Pragma Engineering è una società di Perugia che viene fondata nel lontano 1994 su iniziativa tra gli altri di un ex allievo del Sant'Anna. Sono due i filoni principali di attività i sistemi per test e misure e i dispositivi di neuro-riabilitazione. Pragma si caratterizza sin dai propri esordi per una importante offerta nel settore ricerca e sviluppo soprattutto come portato dell'esperienza dei propri soci e dei contatti intercorsi con l'ambiente accademico e scientifico. Successivamente Pragma si specializza nel settore industriale con un'offerta che non è più quella di servizi di ingegneria ma riguarda sistemi ed apparati. Si tratta di apparati di test e di misura impiegati nel campo dell'energia, nel campo dei trasporti e nel campo aerospazio e difesa. In questo ambito Pragma ha acquisito importanti clienti quali SELEX, General Electric Transportation System, Trenitalia e Emerson Network Power. Inoltre Pragma opera come alliance member per National Instruments. All'interno del gruppo di lavoro di Pragma Engineering esistono figure specializzate nell'applicazione di tecnologie alla riabilitazione e all'assistenza di persone con disabilità. In particolare abbiamo sviluppato sistemi per la teleriabilitazione nell'ambito della terapia occupazionale e della terapia cognitiva. Questi sistemi sono applicati in clinica neurologica, a casa del paziente e come supporto ad azioni di innovazione sociale promosse da non-profit. Ecco una macchina industriale in tutte le sue parti, montata e smontata, la vediamo fin nei minimi particolari. Ma è una realtà virtuale, sviluppata nei laboratori di VR Media, dove si progettano e si realizzano anche caschi industriali per la realtà aumentata, in grado di far percepire al tecnico informazioni istantanee e di segnalare il comando giusto, di dare informazioni collocate nella realtà. VR Media è una spin-off fondata nel 2002 come costola del laboratorio Percro. La realtà virtuale e la realtà aumentata sono due tecnologie complementari. La realtà virtuale, di cui ne avete un esempio qui alle mie spalle, il concetto fondamentale è quello di immergere un utente in un ambiente virtuale sintetico creato dal computer. Lo scopo è quello di fare del training, per esempio, visualizzazione scientifica, ricostruzioni storiche e di sistemi come questo che appunto permettono questo tipo di immersione, noi ne realizziamo e le vendiamo a università e grandi società e grandi industrie. Invece nella realtà aumentata quello che facciamo è quello di costruire dei computer indossabili con degli occhiali speciali molto simili ai Google Glasses che vanno molto di moda adesso che nel nostro caso vengono utilizzati in ambienti industriali affinché dei tecnici che devono manutenere un macchinario possano vedere davanti agli occhi e direttamente collocate sulle macchine informazioni utili a compiere appunto le loro riparazioni. VR Media è una società che si tiene sempre al passo con la ricerca che è un po' una caratteristica di molte altre spin-off della squadra superiore di Sant'Anna. Quindi i nostri prodotti sono in continua evoluzione e nel caso della realtà virtuale lavoriamo per aumentare sempre di più il senso di immersione e le capacità di simulazione dei sistemi. Nel campo della realtà aumentata lavoriamo ad aumentare diciamo le capacità visualizzative di questi sistemi sui macchinari. Evidenza è un'azienda giovane e dinamica che realizza software per l'industria per il settore dell'automotive per gli elettrodomestici e per molte altre applicazioni. È nata nel 2002 e oggi conta 20 dipendenti altamente qualificati e a sua volta ha generato una nuova spin-off. Sì, Evidenza è cresciuta veramente negli ultimi anni abbiamo raggiunto 20 persone che sono altamente qualificate il 30% con il dottorato quindi abbiamo un gruppo di persone giovani altamente motivate per sviluppare software per l'industria software per l'industria sia nel campo automotive posso citare Magneti Marelli Cobre Automotive che stanno utilizzando il nostro kernel Erika Enterprise all'interno delle automobili Erika è il primo kernel open source certificato in ambito automotive e anche altre aziende come Nebra Simone Ima piuttosto che aziende del campo della robotica che stanno utilizzando soluzioni open source basate su Linux e Android per sviluppare nuovi prodotti innovativi all'interno dei loro sistemi il mercato di Evidenza attualmente è in fase di espansione contiamo nuovi clienti in particolare anche nel settore della generazione automatica di codice e in particolare abbiamo un nuovo prodotto che si chiama i4Coder che sta proponendo nuove innovazioni in ambiti dove attualmente la generazione di codici non era utilizzata l'agricoltura non è più quella di una volta accanto alla tradizione si afferma la tecnologia e diventa uno strumento molto utile per chi lavora in questo settore Edit è una spin off nata nel 2001 dal gruppo di entomologia territoriale del Sant'Anna Edit sviluppa da tempo applicativi sia in ambito web che in ambito mobile per aiutare gli agricoltori e tutti gli operatori del settore agricolo a prendere delle decisioni quindi noi realizziamo banche dati sistemi informativi geografici quindi delle mappe online dei modelli di simulazione dei modelli di elaborazione e forniamo tutti questi prodotti ai vari operatori nel futuro è sempre più importante integrare questi dati con banche dati provenienti dall'esterno con nuovi sensori nuovi sensori innovativi che permettono di aumentare questo tipo di informazione e migliorare alla fine le decisioni degli agricoltori sia come riduzione dell'impatto ambientale che come miglioramento delle produzioni Ergo, energie e risorse per la governance della sostenibilità viene fondata nel dicembre del 2006 su iniziativa di un gruppo di docenti e ricercatori del Sant'Anna che già erano impegnati a livello internazionale nel management della sostenibilità con i suoi 20 collaboratori oggi fornisce consulenza alle organizzazioni pubbliche e private in Italia e all'estero nel giugno 2013 ha ottenuto la registrazione EMAS la nostra idea di base è che ogni imprenditore voglia sviluppare un business che sia competitivo sostenibile e sicuro per i propri lavoratori sfortunatamente a causa di aspetti tecnici regolamentari gestionali ed economici questo è un obiettivo non facile da raggiungere la nostra mission è quella di aiutare le imprese pubbliche e private fornendo le nostre competenze in ambito di consulenza e di ricerca noi offriamo un ampio set di servizi che variano dall'implementazione di sistemi di gestione integrati al life cycle assessment e alla product environmental footprint in questi anni abbiamo avuto un ottimo successo infatti abbiamo sviluppato esponenzialmente il nostro fratturato Eni Knauf e Luxottica che è l'azienda che gestisce il brand Ryban sono tra le realtà che possono esprimere soddisfazione per l'implementazione dei nostri tool Red Hub si occupa di gestione della ricerca e fornisce consulenza per la presentazione e lo sviluppo dei progetti per la partecipazione ai bandi europei per la ricerca di finanziamenti al suo interno ci sono diverse competenze spazzano da quelle di economia e diritto a quelle più tecnologiche Red Hub è un'impresa spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna e la sua missione è quella di fornire un supporto integrato alle imprese ai centri di ricerca alle università che fanno ricerca e innovazione i servizi comprendono in particolare la selezione dei bandi più appropriati per una certa idea progettuale la gestione della fase di scrittura del progetto del consorzio dei partner che di solito richiedono competenze e caratteristiche complementari anche una dislocazione geografica internazionale e la gestione del progetto e dei piani per la valorizzazione dei risultati la squadra di Red Hub comprende un professore di meccanica applicata un ingegnere elettronico-biomedico e un economista esperto in tecnologie e management delle tecnologie innovative in questa fase iniziale di attività abbiamo partecipato alla scrittura di numerosi progetti nell'ambito dei programmi quadro della Commissione Europea per il sostegno alla ricerca e all'innovazione e anche a programmi per il sostegno delle piccole e medie imprese per il loro sviluppo e l'aumento della loro competitività grazie alla ricerca e all'innovazione Lab 11 il nome deriva dalla data di nascita della società era il novembre 2011 offre consulenza alle aziende su modelli di business e open innovation e affianca manager e imprenditori nel ridefinire le proprie strategie e scoprire nuovi mercati i nostri clienti sono aziende di piccole medie grandi dimensioni a fattor comune hanno la volontà di affrontare dei percorsi di cambiamento anche radicale dei loro modelli noi li affianchiamo in questo percorso offrendogli soluzioni di formazione executive affiancandoli nella ridefinizione delle loro strategie dei loro modelli di business e dei loro piani di marketing strategico ci piace affrontare questi percorsi insieme a loro insieme a manager e imprenditori cerchiamo di dialogare e far emergere quegli elementi che poi vanno spiegati distillati e portati in qualche modo all'implementazione siamo una spin-off della scuola Sant'Anna e il nostro spinning tra teoria e pratica è continuo dobbiamo tenerci aggiornati e impariamo non solo dai libri ma anche dalla costante interazione con i nostri clienti e con i casi aziendali fin dal 2000 la società TecnoDeal è in grado di offrire consulenza su progetti innovativi dei soggetti pubblici per esempio alcuni comuni della Valdera di aziende e di altre spin-off l'esperienza è notevole si spazia dall'analisi di fattibilità alla ricerca di finanziamenti dalla creazione di reti e di collaborazioni alla diffusione delle idee TecnoDeal è una spin-off della scuola superiore Sant'Anna che ha sede nel compatore di Peccioli in provincia di Pisa abbiamo un'ampia gamma di competenze tecniche ed accademiche possiamo contare su una rete internazionale nei campi della micro-ingegneria della meccanica dell'elettronica e dell'ICT siamo attivi in settori che stanno offrendo nuove opportunità come quella della robotica della health e dello smart environment i nostri servizi di consulenza si orientano sulla realizzazione di diligence tecnologiche analisi di investimenti in campi innovativi nella ricerca e nello sviluppo di nuovi servizi e prodotti basati sulla robotica ci occupiamo inoltre della gestione di progetti industriali di ricerca come ad esempio Robotera progetto finanziato dalla comunità europea che riguarda l'integrazione di servizi robotici per gli anziani e infine incoraggiamo e aiutiamo lo sviluppo di progetti di imprenditorialità per giovani ricercatori cesu e svolge attività di comunicazione di consulenza progettuale di formazione sui temi dell'unione europea e della global governance la società nasce nel gennaio del 2013 su iniziativa di alcuni ricercatori della scuola superiore Sant'Anna e dell'università Roma 3 la nostra vocazione è offrire supporto per l'attività progettuale e per l'intercettazione delle grandi opportunità di fondi che derivano dall'unione europea e dalle organizzazioni internazionali per enti pubblici e privati ma ci occupiamo anche di organizzare realizzare e produrre direttamente attività di comunicazione e di formazione su questi temi noi nasciamo per valorizzare innanzitutto un innovativo format di comunicazione europea che si chiamano giornate di consapevolezza europea e che sono state realizzate a livello nazionale in forma di grande evento a Roma, Milano e Napoli con il supporto della Commissione europea del Parlamento europeo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri italiani il nostro obiettivo è arrivare a realizzare questo tipo di attività a livello continentale e incidere realmente anche nel dibattito pubblico e negli sviluppi del processo di unificazione europea innanzitutto Un gruppo di ricercatori della Scuola Sant'Anna ha costituito a fine 2012 Cismania un'azienda che realizza dispositivi nel campo delle neuroprotesi insomma apparecchi che consentono di controllare per esempio una mano robotica o delle protesi visive ricerche molto promettenti che stanno dando già dei risultati concreti Cismania si occupa della produzione dello sviluppo e della vendita di interfacce neurali invasive queste interfacce sono interfacce di nuova generazione quindi innovative e la loro dimensione è miniaturizzata proprio perché vengono utilizzate delle tecniche di microfabbricazione avanzata nei prossimi tre anni il Cismania si rivolgerà ad una nicchia di mercato costituita da centri di ricerca per applicazioni delle interfacce per l'impianto su modelli animali in contemporanea però Cismania si ripropone di progettare e sviluppare e testare delle interfacce neurali ad uso clinico per uso umano con commercializzazione prevista entro il 2018 Humanware nasce nel 94 a Pisa nei laboratori di ingegneria della scuola Sant'Anna da alcuni anni realizza dispositivi come questo è utile per la riabilitazione del paziente in particolare dei suoi arti superiori e ve ne sono altri che vediamo in queste foto l'obiettivo adesso è espandersi e inserirsi nei mercati internazionali Humanware produce sistemi per la riabilitazione e la valutazione funzionale dell'arto superiore soltanto in Italia il mercato potenziale in fortissima espansione è stimato in oltre 90.000 tra operatori e strutture sanitarie potenzialmente interessate rispetto alla concorrenza noi proponiamo sistemi che sono facilmente trasportabili semplici da utilizzare ed economici tutti gli elementi che contribuiscono ad alimentare benefici di carattere clinico organizzativo ed economico per tutta la filiera di settore dal paziente fino alla struttura sanitaria coinvolta i punti di forza del nostro approccio vanno ad amplificare questi benefici per il paziente sono coinvolgerlo in giochi interattivi specifici anticipare la riabilitazione a ridosso all'evento traumatico avvicinare la cura al paziente fino alla sua domiciliazione e infine garantire la continuità di cura attualmente siamo impegnati nella fase di commercializzazione sul mercato domestico ma puntiamo a quello globale è storia delle ultime settimane una trattativa con un partner svizzero che è leader nel settore della robotica riabilitativa fortemente interessato a commercializzare su scala globale due nostre macchine sistema motore e sistema ultra WinMedical è stata creata nel 2009 da ricercatori e giovani manager del Sant'Anna insieme a medici di grande esperienza l'azienda conosciuta ormai in tutta Europa opera nel settore biomedicale ideando e realizzando dispositivi così misurano i parametri vitali dei pazienti inviano dati di continuo in tempo reale i nostri sono dei sistemi che sono facili comodi da utilizzare comodi da indossare e sono dei sistemi che si adattano alle esigenze del mondo sanitario in particolare la nostra area di specializzazione è quella di coprire delle aree all'interno degli ospedali dove questa tipologia di tecnologia non è presente la nostra è una presenza non solo italiana a livello di mercato ma anche internazionale attraverso le vendite che realizziamo con i nostri partner internazionali che sono sostanzialmente dei distributori all'interno della compagine societaria vi sono due soggetti privati investitori e naturalmente come azienda noi continuiamo ad investire in innovazione ed in nuova tecnologia affinché sia possibile introdurre sul mercato dei moduli e dei sistemi che siano sempre più innovativi e particolarmente adatti a quelli che sono i bisogni del mercato stesso Hitec è nata nel 2012 su iniziativa di tre giovani Monica, Carmine e Alessandro nei primi mesi questa start-up ha ideato e progettato due tipi diversi di sensori per telecamera occhi elettronici ad alte prestazioni per applicazioni nel campo medico di cui ha presentato domanda di brevetto e ora si apre la sfida del mercato Hitec è un'azienda che ci piace definire ad alta tecnologia propone sul mercato prodotti che sono sensori CMOS dedicati a un settore specifico che è il settore biomedicale siamo partiti grazie ad un finanziamento ottenuto dalla provincia di Trento e che ci ha permesso di coprire i costi per la produzione dei nostri primi prototipi ora siamo nella fase di commercializzazione ci stiamo entrando e ci stiamo proponendo a alcuni possibili clienti e in parallelo stiamo pensando la nuova generazione di sensori la storia di Espress 3D comincia nel 2011 quando vince il premio Star Cup Toscana quell'idea poi è diventata una bella realtà imprenditoriale l'azienda infatti opera nel settore delle biotecnologie a sede all'interno dell'ospedale di Cisanello presso il laboratorio Endocas Espress 3D ha un team imprenditoriale che si compone di tre ingegneri e tre medici noi offriamo al sistema sanitario e anche a tutte le industrie che operano nella realtà biomedicale soluzioni ad alto livello tecnologico sia per la pianificazione che per la simulazione e l'esecuzione degli interventi chirurgici nel settore della pianificazione realizziamo modelli 3D paziente specifici a partire da immagini TAC che permettono al chirurgo di pianificare l'intervento e scegliere il migliore approccio per quanto riguarda la simulazione realizziamo simulatori ad alto livello di verosimiglianza sia per la formazione dei medici quindi per il training clinico e non solo chirurgico ma anche per industrie biomedicali che abbiano bisogno di dimostratori e per scopi di marketing commerciali per quanto riguarda infine l'esecuzione degli interventi siamo possessori di un brevetto che per la realizzazione di guide chirurgiche per l'impianto di viti nella colonna vertebrale cosa molto utile ai chirurghi ortopedici e neurologici questo brevetto vorremmo valorizzarlo e renderlo un prodotto commerciale vorremmo farne diventare il nostro core business e per questo che siamo anche alla ricerca di finanziatori che ci possono aiutare questi che vediamo sono dispositivi per la chirurgia mini-invasiva si chiamano Starlight e Star System e servono in particolare per fermare il sangue negli interventi chirurgici li progetta e li sviluppa la società Echimed che ha sede nell'incubatore di Peccioli Echimed è nata nel 2010 ma raccoglie l'esperienza anche di altre aziende che si erano sviluppate negli anni precedenti Echimed si occupa di ricerca e sviluppo in ambito della chirurgia mini-invasiva sviluppiamo prodotti attraverso la collaborazione con chirurghi Opinion Leader dopodiché li certifichiamo e li facciamo produrre conto terzi insieme a questo commercializziamo anche prodotti in Italia che acquistiamo all'estero il nostro mercato di riferimento era quello italiano ma negli ultimi due anni un anno e mezzo abbiamo cominciato a sviluppare quello estero in particolare ci siamo rivolti verso il mercato americano e il mercato dei paesi del Golfo Persico accanto a queste attività relative alla chirurgia mini-invasiva negli anni abbiamo collaborato anche con la scuola Sant'Anna per quello che riguarda progetti europei e con aziende della zona per lo sviluppo di protesi uditive il team di Biocare Provider azienda innovativa che realizza software per la sanità lavora insieme dal 2011 ci sono tre ingegneri tre informatici due chimici farmaceutici due anni dopo nel 2013 è stata costituita la società che ora punta anche a realizzare l'hardware dispositivi insomma che aiutino il paziente nelle terapie farmacologiche Biocare Provider è una start-up innovativa ci occupiamo di sviluppare software applicazioni mobile per Android e iOS quindi per iPhone per favorire l'aderenza alle terapie farmacologiche dei pazienti con il nostro progetto che si chiama Dr. Dream vogliamo proprio aiutare i pazienti a gestire al meglio le loro terapie consapevoli dei rischi e dei benefici connessi con l'assunzione dei farmaci permettendo poi al medico di poter monitorare il paziente dal remoto non solo al medico ma anche ai familiari del paziente in maniera appunto che la terapia farmacologica sia assunta in tutta tranquillità e sicurezza mettiamo a disposizione le nostre applicazioni per Android e iPhone quindi sui rispettivi market per pazienti e medici che vogliono utilizzarle parallelamente stiamo anche progettando un dispositivo dedicato ai pazienti più anziani che hanno difficoltà nell'utilizzo delle nuove tecnologie e questo dispositivo è ad oggi in fase di prototipazione nella scuola c'è anche un team che supporta le imprese spin off l'ufficio valorizzazione ricerca infatti offre lo scouting di idee imprenditoriali l'assistenza nella fase di valutazione dell'idea e nella realizzazione del business plan la gestione della procedura interna per la nascita dell'impresa e dei rapporti con la scuola dopo la costituzione infine informazioni su possibilità di finanziamenti e collaborazioni la scuola ha da molti anni investito risorse sull'attività di trasferimento tecnologico considerandola un'attività molto importante per la sua missione e da tempo ha messo a regime le modalità di creazione di nuove imprese così come le modalità per la brevettazione dei risultati e anche le attività di licensing a questo proposito la scuola ha rappresentato un esempio a livello nazionale e internazionale tuttavia le attività di trasferimento tecnologico richiedono riflessioni continue è opportuno continuamente rimettersi in discussione e riflettere su quelle che sono le migliori modalità per valorizzare i risultati della ricerca dunque non ci si può fermare alle imprese spin off e alle attività di brevettazione a questo proposito sono molto utili le collaborazioni con altre università italiane ed estere nonché con le numerose imprese con le quali la scuola già collabora l'idea è quella di interpretare in maniera innovativa la terza missione dell'università che offre opportunità ma presenta anche qualche velata minaccia e la scuola è intenzionata a sperimentare in questo campo e continuare con attività particolarmente innovative rispettare 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 Grazie a tutti